VENERIA REALE Tantissime novità in questa quarta edizione di Libraria che ormai è diventato un appuntamento fisso. Rieccoci di nuovo a settembre con questa manifestazione voluta e ideata dall'assessore D'Afflitto che ha avuto un grande successo, un grande consenso, un grande aiuto e anche supporto da parte degli uffici che ringrazio congiuntamente con il lavoro che ha fatto l'assessore. Ogni anno si arricchisce con delle novità, quest'anno il tema sarà un po' misterioso, un po' magico per cui scopriremo in questi giorni delle cose eccezionali su tutto il territorio di Veneria come sempre. Un palinsesto davvero ricco quest'anno perché Libraria dura ben 18 giorni con 41 appuntamenti estesi sul territorio dalle case Esnia alla Borgo Castello, a Piazza Annunziata, alla Biblioteca, ad Altessano. Quello che davvero ci riempie di orgoglio è che gli appuntamenti sono tantissimi, autori importanti su un tema che è tra magia, mistero e spiritualità, tema che ci ha portato anche a sviluppare il primo festival olistico che sarà quindi una sezione di Libraria che prenderà vita sabato 22 al Borgo Castello insieme anche all'edizione 2018 di Venuaria del Festival di Teatro Noir che eccezionalmente quest'anno si svolgerà all'interno e prenderà vita all'interno degli appartamenti reali del Borgo Castello dove chiaramente gli ospiti che si iscriveranno potranno davvero vivere dei momenti di teatro unici all'interno di un ente molto particolare quale è il Castello della Mandria. Ringrazio tutte le associazioni che hanno risposto alla manifestazione di interesse, tutti gli autori, gli scrittori che sono numerosissimi, da Ternavasio che ci parlerà di chi è stato Roll, un personaggio della Torino Magica che ha in qualche modo raccontato storie incredibili, a Tiziano Fratus che ci farà vivere quella che è l'energia degli alberi a molti altri che non voglio svelarvi e che racconteremo in questa conferenza stampa piena di libri come ricordavi tu Fabio che ci segui sempre con grande affetto da anni e con le tue testate ci saranno molti momenti particolari in questa conferenza stampa dove anche i protagonisti stessi si racconteranno questa manifestazione è iniziata da un momento in cui la biblioteca Tancredi Milone dopo essere passata in una nuova sede aveva circa 7-8 mila euro, non euro, perdonatemi, la biblioteca Tancredi Milone aveva 7-8 mila libri che andavano in pensione, che andavano al macero e che quindi unitamente a tutti gli altri libri che l'associazione Amici della Biblioteca raccolgono da tempo con le donazioni abbiamo deciso di iniziare una manifestazione che voleva far sì che le persone venissero a Veneria e chiunque venisse a Veneria un libro si portava via quindi anche i negozi, quindi voglio ricordarlo, tutti gli esercizi commerciali, i negozi e anche i banchi del mercato avranno libri anche per questa edizione che verranno regalati a tutti e quindi chi cenerà e pranzerà nei ristoranti di Veneria troverà un libro al proprio posto tavola chi andrà in panetteria avrà un libro insieme al suo sacchetto del pane questo significa dare respiro in qualche modo ai libri, raccontare anche ai ragazzi che con un esempio che continuare a leggere non esistono solo la rete, i social e i cellulari il libro è un mondo fantastico in cui si può davvero viaggiare con la mente e raggiungere i sogni e quindi crediamo che Veneria sia sempre di più una città che legge e una città che cresce una città che ovviamente con lo sviluppo anche della reggia, del consorzio delle residenze Sabaude con le tante bellezze che sono presenti sul territorio ha delle occasioni di slancio e prossimamente speriamo di rilanciare su tutti i cittadini delle novità sulle quali stiamo lavorando come amministrazione la Mandra è ovviamente un altro dei poli di attrazione non indifferente che sta avendo anche degli sviluppi non indifferenti dal punto di vista di sport e di organizzazione di eventi anche lì nelle quali avremo occasione di vedere nei prossimi mesi dei grandi ottimi sviluppi Vi aspettiamo a Veneria Reale, tra l'altro sono ancora giornate calde in cui le serate sono bellissime quindi vi invitiamo a raggiungerci, a mangiare anche un boccone in questa città che circonda la reggia approfittatene, tantissimi gli appuntamenti dal 22 settembre al 7 ottobre libraria è una conclusione in grande stile il 7 domenica dalle 16 in piazza annunziata con la festa del teatro che sarà la prima in qualche modo presentazione di una stagione teatrale dal vivo condivisa con la cittadinanza e quindi un momento in cui si vivranno degli assaggi e degli spettacoli della stagione organizzata dal nostro direttore artistico del teatro Concordia Mirko Repetto e in cui con anche promozioni speciali i cittadini potranno avvicinare il teatro decidere di acquistare degli abbonamenti o degli spettacoli ma soprattutto è il teatro che esce di casa e che va a casa dei cittadini a trovarli e speriamo che sia un modo anche per far vivere sempre di più alla gente di Veneria quelli che sono i momenti legati alla cultura, all'approfondimento e soprattutto allo stare insieme e al vivere la città Grazie a tutti! Grazie a tutti!